Omas oggi è orientata alla ricerca tecnologica, al supporto tecnico per i nostri clienti, all'innovazione e all'ecosostenibilità. Grazie per la visione! Si è consolidata inoltre la fiducia nella motorizzazione diretta, esclusiva qualità di Omas, che riduce e abolisce l'uso di cinghie e pulegge che ormai fanno parte del passato. Grazie!